Amici di Fanner, buonasera dallo Sport City di Alvaro del Portiglio. In occasione della settima giornata della Serie A2 Lega Calciotto, oggi si affrontano la SD 2 Work Sport contro il... C'è questo cross in mezzo, il colpo di testa e c'è il vantaggio! Gran bel gol del 2 Work Sport 1-0 arancioni. C'è questo sinistro lungo in avanti, il pallone va in favore del numero 8 che calcia fuori, ma che bella conclusione. Corner dal versante destro degli arancioni, questo tiro! Che gran bel gol! 2-0 to Work Sport, non ha potuto fare nulla Napoli. Non sa come reagirà adesso il... Vecchie Glorie! Passaggio in mezzo! E qua è andato ad un passo dal riaprire il match della squadra di Granata. Dal versante sinistro, battuto in mezzo, colpo di testa! E palla fuori! Pfeifferman! Ancora lui vicinissimo al riaprire il match. Vai Giannelli! Con il sinistro! La risposta di Napoli! Il pallone è buono e alla fine viene allontanato al pericolo. Battuta che viene lasciata al numero 8. Che prova! E finisce fuori! Che... Per andare in Cipriani. Lungo molto bene a cercare il compagno tutto solo. C'è questo tiro! Che bella parata di Napoli! Ottimo però il lavoro offensivo che sta facendo il Work Sport, meno quell'offensivo. E allora c'è questo tiro! E c'è un gol che il Vecchie Glorie tanto ha cercato che infine ha trovato. 2-1. Ma comunque è rimessa. Cross in mezzo, allontanato, non molto bene. Pallone ancora buono. Dal limite dell'aria, il destrio! E Napoli! Gli dice di no comunque... Calcio d'angolo. E qui... A momenti ci stava per imbeffare con un altro corner. Pallone buono. Il destro! E ancora Napoli! Napoli! Va a corsetti! Deviazione! Pallone ancora buono! Allora adesso va Giannelli con il sinistro e allontana il muro che è nata. Pallone che arriva addirittura nella difesa del Work Sport. Ma non c'è più tempo. Ma non c'è più tempo. Finisce qui. 2-1 questo primo tempo. Ma Giannelli con il sinistro e Napoli! Un'altra volta ha chiamato a fare un grande intervento. Coltella! Non riesce a seguire il compagno. Consente la ripartenza del Work. Allergato molto bene sulla sinistra questo pallone. 1-1 il sinistro! Napoli in calcio d'angolo! Vieni ci! Vieni ci! Vieni ci! Di messa stavolta per il Vecchie Gloria. Lo vedi Giaccone. Giaccone. Con tre passaggi si sono trovati dentro l'aria di vigore il Vecchie Gloria. E' mancato solo un appuntamento con la conclusione. Stesso palla è sempre ragione. Che splendida giocata! E c'è il 3-1! 3-1! Io che ammolesco al modo in cui il tuo Work Sport. Teo va il gol! Guardi in avanti. Castellani in avanti dove c'è Pavone. Clamoriosamente solo. Mette il pallone in mezzo! Ma non c'è nessuno! Con stesso palla sempre rianata. Castellani! Sinistro che finisce fuori. Splendido pallone a cercare l'11 che è tutto solo. Che calcia! E la palla che finisce fuori. C'è il Work. Cipriani. Lunga a cercare i mariti. Che va col destro! Non male! Ripettono allora il Work con questo pallone. In mezzo per gli anelli. La può chiudere! Fallo! Calcio di vigore. Gli anelli contro Napoli. Va gli anelli con il sinistro! Ed è 4-1! Spiazza Napoli e finisce qui. Non c'è più tempo. Finisce 4-1 per il Tu Work Sport. Non c'è più tempo.